Dopo due anni di stop, la popolosa frazione di Paganica ritrova la processione della Madonna d'Appari, una tradizione antica e molto sentita dalla popolazione che rinnova un rito importante e identitario. La processione, seppur in forma ridotta, è partita alle 10.30 dalla chiesa del cimitero per arrivare al santuario della Madonna d'Appari, tra Paganica e Camarda, dove è stata celebrata la messa, in processione soltanto la statua della Madonna, per ragioni legate al Covid. Paganica si è ritrovata in festa dopo due anni durissimi, con le tradizioni locali, che includono anche la tradizionale fiera di Pasquetta, che hanno riportato in paese moltissima gente. Per il parroco di Paganica, Don Donisio Redriguez, è un momento importante. Ma la cosa più bella è che non soltanto i paganichesi, la devozione alla Madonna d'Appari è un po' coinvolgente tutta l'Aquila, quindi questa è la cosa bella, perché è un momento di fraternità, di condivisione, ma per noi che siamo credenti, quindi l'amore per il Signore che in Maria ci ha regalato un dono immenso della sua vicinanza a noi. Penso che tutti quanti ce l'auguravamo del poter tornare a come noi festeggiamo tradizionalmente le nostre ricorrenze. Penso che per noi oggi è un momento importante. I paganichesi sono molto legati alle tradizioni di Pasqua. Da sempre, ogni martedì, si rinnova questa processione, che nelle guerre e nel terremoto erano riusciti a fermare. Ci ha pensato la pandemia, per questo il momento di oggi è stato molto toccante e partecipato. Le origini di questa processione si fanno risalire al 400, forse prima. La costruzione della Statua della Madonna, invece, risale al 1872. Tra i presenti, l'assessore comunale Daniele Ferella, che è di Pagani, che spiega perché la processione è un momento così importante e solenne. Tutto il territorio conosce l'importanza di questa festa per la nostra comunità, ma in realtà per tutta la zona dell'Aquilano. In questi due anni ci è mancato questo momento di sicuramente raccoglimento intorno alla Madonna d'Appari, ma anche questo momento di comunità piena. Quest'anno si ricomincia, informazione, diciamo, leggermente ridotta rispetto alle usanze storiche, eppure è sempre un nuovo inizio e c'è l'emozione come fosse la prima volta.